Invio con tanto affetto i miei auguri ai fratelli, alle sorelle delle Chiese ortodosse e di alcune Chiese cattoliche orientali che oggi, secondo il calendario giuliano, celebrano la Santa Pasqua. Il Signore è risolto come di gioia, colmi di gioia e di pace tutte le comunità e conforti quelle che sono nella prova. A loro Buona Pasqua! Assicuro la mia preghiera per la popolazione dello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, colpite da grande inondazione. Il Signore accorre i defunti, conforti familiari e quanti hanno dovuto lasciare le loro casse. Grazie! 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 Grazie!